Vi presentiamo il numero 20 della Ustiladins. Sulla Prima Piatta la festa ladina della Corsa Resa che rueda te ampezza e te fassa. Appede l'invito del Presidente dell'Unione di Ladins. Dell'attualità, amore, tracci, cronaca e considerazioni della due tappi del giro della Valedes Ladines. E l'intervista al direttore da Cianacei che ci vado alla Carovana Resa. Questa settemana l'Avvocata Andi Rossi ne conta del Corridor e della sua situazione con la giustizia. Sempre dell'attualità i risultati della prova di studenti. E l'intervista a Paul Videsot sul corso di formazione. Da Fodomi l'urieras per liberar fuori dagli auti la piazza del Paese. Della piazza della Valbadia l'intervista a Roland Fluss da San Chassan che risuona di questi orientamenti sessuali. Dalla piazza di Fascia all'orida delle due neve sottie. Che il tutto dedicato all'erta Cianacei. E il Pruma Cinxteile a Savic. Il grob del teatro sacana fa festa e adatforan liber. Il success della Pruma scontreda per conoscere il territorio. E la legittimazione giuridica della formazione scolastica. Intervista alla Presidenta Barbara Bravi che palesa il content, ma in Cielcruzie per la mancanza delle infermieras. La zona da Ciampedella l'urata in una firma agricola e l'ha imparata a conoscere la terra. Descorrion questa settimana, libera di gran success, le ha la corsa resa. Amorades con la neva firma nascuta a San Chassan che si mette all'aletta di operatori del turismo. Nef Capitele è stata benedissima stradona Pozza, l'ultima volontà di Luciano Crepaz. Ed è scherzata la soluzione del retrato vele da in due nere. Il progetto della quinta classe del Liceum d'Art di Ortisei mette Dante in cena lingia delle riflessioni. Nef musicisti e cantarini da Gerdena si mette insieme sulla pedia del gruppo musicale internazionale. Della piatta del sport, l'intervista doppia dei giochi facevano che del Nord America ha per sua passione. I risultati della Roda da Montt. E chi del gioinetto da Pozza che corre con la moto da strada. Fini un foro di scherzata con i consigli della Luna. Sulla Ux di Ladin, ogni vendere potete trovare la neve da tutta la Ladinia. Per info e abbonamenti potete viaggiare alla redazione di Fascia su Stradona St. Jean. Telefon 042 764545 Mail Fascia www.laush.it Sulla Ux di Ladinia Sulla Ux di Ladinia www.laush.it Sulla Ux di Ladinia Per esempio Grazie a tutti.